Il Partito Repubblicano, che affonda le sue radici nel 1895, punta ora al suo rilancio. L'intenzione dei vertici nazionali è prima di tutto quella di stringere un maggior contatto con la gente, partendo quindi dalle realtà locali. Per farlo ha individuato quale uomo di punta su scala nazionale, Franco Floris, attuale presidente di Genova Sviluppo e Area 24. Floris è stato infatti nominato responsabile nazionale Enti Locali dell'Edera e a lui toccherà il delicato compito di mantenere i contatti sul territorio per preparare le basi di un ritorno del partito e del suo storico simbolo nelle liste elettorali. La scelta di Franco Floris, repubblicano da sempre, si basa sulla sua esperienza politica e amministrativa, che lo ha anche già portato a essere individuato quale consulente per la finanza locale da parte di una società multinazionale, leader di questo settore. Floris, inoltre, è più volte balzato alle cronache per i suoi interventi a livello nazionale nell'ambito del Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni, in battaglie contro il patto di stabilità e il freno che questo provvedimento ha causato e sta causando a molti comuni.